C'è il filosofo che vede il filosofo che non va a mangiare. Ma scusa se stiamo a Sabatini ma chi è? Ma chi è di Sabatini? Sabatini, il ristorante di 5 stelle. Apri tu? Un'onore. Apri con tranquillità. Non agitare, deve essere un gesto fatto a pelle. Piano, vai. Non toccare il corpo. Ma è vero, non è vero. Si fa in vlog. C'è ancora 6 minuti. C'è ancora 6 minuti. Ancora 6 minuti. Ancora 6 minuti. Vigilia.